A 150 giù di lì, prima dello stacco, un po' arretrati, oro gialle, Oliver Thiem. Via la macchina in velocità. Chiusura. C'è lotta serrata con Orata a gette che impegna Osa, Osa. Si ritrae Orlandegli, Ulivi punta in avanti Oceanland. Scende Orata, il lancio in 13 e 2. E così ha avuto problemi Orlandegli, Ulivi, insiste Fierro, all'argo, siamo al completamento dell'appiegato. C'è Alen che insiste su Orata. 400, spende un po' molto, ma passa al comando. 28,6 sul mio cronometro. Per questa Civilization, Cavali ha il completamento dei 600, piuttosto frizzanti per la categoria. Nell'ordine del 43 e mezzo, Oceanland, Orata. Poi via via tutti gli altri. Con Osa, Osa in terza posizione. Si affaccia Oriente. Cavali ha il completamento del mezzo. Domi, gli oggettonati in un minuto e qualche battito. E Oriente si migliora gradatamente e si trascina Odette Griff e Oro Giallopar. Oriente punta in avanti. Si va al chilometro. Chiuso in 15,6-15,4 di frazione. Sta già passando il Sauro. Passa Oriente. Si libera Orata, che cerca di tagliare a largo Ozoneo di Ucrasse, che insiste. 400 alla meta. 3,19 di fronte. 29,3,4 di miglio. Orata anticipa. Ozone lo taglia. Tre cavalli in diagonale. Si lotta per la vittoria. Oriente in vantaggio. Si ripropone. Si Orata che Ozoneo di Ucrasse. Oriente in vantaggio. Sono un po' fermi. Oriente mantiene il comando. Oriente in vantaggio. E mi sa la gioia di Govoni in quel di Bologna. Mentre per il secondo c'è lotta serrata. E Orata-Jet, che argina. Ozoneo di Ucrasse. Due minuti e qualche spicciolino. 1,15 e 1. Tiene fede all'ultima performance. Questo Oriente. La vittoria nell'ultima la conferma oggi. 3,17 al totalizzatore. Questo bel figlio di Uronometro. Tufanomania. Il training Vincenzo Amato. Il proprietario. E l'ottimo Govoni come allevatore.